Giuliana bentornata, innanzitutto come stai e raccontaci come è andata un po' la decisione di tornare in Rosso Verde Grazie, allora come ben sapete qua è la quarta stagione che vengo a difendere questa maglia che mi ha portato qua prima la squadra, poi tutti i tifosi, le persone che mi sono state vicino ecco la decisione di tutte le altre squadre, non da togliere nulla a nessuno, però qua è come se fosse la mia seconda casa Dicevi prima che in Brasile ti sei allenata e hai giocato addirittura anche il calcio a 11 hai sperimentato Sì, sono andata a giocare a calcio a 11, diciamo bene dai, ho giocato a calcio a 11, a 7 e poi a 5 non sono stata ferma perché poi uno sa quando si sta tanto tempo fermo che ci vuole di più Che ti aspetti dal campionato, dalle manifestazioni in cui l'Aternana sarà impegnata? Speriamo di fare bene, speriamo di ogni settimana lavorare bene per arrivare a domenica e vincere le partite che si deve vincere e arrivare alle finali Scudetto Supercoppa già l'abbiamo portato a casa, direttivo quest'anno per me, tanto per la squadra sarà la Coppa e sicuramente lo Scudetto Lavoreremo per questo, per arrivare alle finali Ma sicuramente alle finali, senza dubbi, poi se si lavora bene Tanto abbiamo visto che per vincere uno scudetto abbiamo giocato in 5 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti